Ciao bambini! Ciao ragazze! Oggi preparate per voi una bellissima sorpresa! E dovinate cosa? E' un qualcosa che si mangia? No! E' un qualcosa che si muove? Quasi! E' un animaletto? No! E' sono le LOL! Si! Sono le LOL! 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 Molto speciale! Ta-da! LOL Surprise Andrew Raps! Si si! Serie ISP! Vuol dire che hanno un occhio per fare le spie e vedere quello che la persona non vede! Apriamo il primo strotto! Eccoci qua! Ci deve essere qualcosa! Ecco! Questo è l'occhio spia! Che vede quello che non si vede all'occhio senza la spia! Look for Secret Plus! Vedi? Così vedi? Così non vedi! Che belle! Vero? Sì! Sono bellissime! Mi piacciono tanto! Anche a me! Lo sapevo che vi piacerà! Apriamo il secondo strato! C'è un altro geniera qui! Eccoci qua! Uno era in esaltale! L'altro in obliquo! Wow! Guardate! Qui c'è una LOL con tantissimi vestitini! Che dice qualcosa! Vediamo che c'è scritto! Glittering Clothes! Che è la chiusura glitterata come il suo vestito! Meravigliosa questa LOL! E il terzo strato! Opla! Aperto! Però voglio scoprire cosa dice la terza LOL! Guardiamo bene! Al Moselle! Oh! Dice che siamo in tanti qui! Vediamo! Ci devono essere 15 sorprese nascoste! Apriamo! Wow! La LOL! È munichizzata! No! Sì però! Guarda che costruino ha! Ma è finto! Giusto per nascondersi! Loro sono i segreti LOL! Wow! Che bella bambolina! È vero! È bellissima! Oh! Guardate che vestitino! Vediamo che altre sorprese ci ha portato questa LOL! Prima! Oh! Lo so già! Lo so già! Cos'è? È un bellissimo zainetto con le ali! Guardate bambini! Quasi quasi vola via da solo! Questa la metto a te! Un'altra è tutta la collezione delle LOL! Guarda! Ma sono tantissimi! Proviamo a vedere! Queste sono le due femminucce! Anche qua le femminucce! Qua c'è un'altra! La nostra LOL si chiama Asif Baby! Oh! Che tenera! Bello! Bello! Guardate! Abbiamo un'altra sorpresa nascosta! Ta-dam! Wow! È un vestito leopardato! C'è una gonna con le perle! E tutto il resto del vestito è nero! Con dei puntini rossi! Oh! Le starà bene! Vediamo altre sorprese nascoste di questa scatola! Si apre anche da questa parte! Scopriamo cosa c'è dentro questa LOL Surprise! Oh! Sono curiosissima ragazzi! Come voi! C'è un orecchino per la LOL! Ma è meraviglioso! Ha forma di cuoricino! Bello, bello! Il ciuccio! Eccoci qua! Che carino! Veramente bello! Vediamo ad aprire un altro! Eccoci un'altra sorpresa! Mamma mia! Quante sorprese in una sola scatola! Oh! Oddio! Lui! Ha aperto! Uno! Due! Tre! Oh! Il biberon! Ma è veramente bello! Guardate! Piccino e piccino! Super! Eccoci! Tutta per la nostra bimba che la mettiamo qui! E manca un'altra sorpresa che è nascosta qui da qualche parte! Ah! Qui! Apriamo! Dai vediamo cosa manca! Le scarpine! Guardate! Piccine, piccine, piccine! Che belle! Rosse e nere come il vestitino! Adesso abbiamo scoperto tutte le sorprese! Meravigliosa, vero ragazzi? Sì, è bellissima! Bambini, mettete mi piace! Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video! Ciao ciao bambini!